Ciao, il mio nome è Andrea Celuna, sono conosciuto in Italia come lo psicologo del business e quest'oggi sono qui per recensire l'Accademia di Business Coaching Italia di Antonio Panico. Ho cominciato questo percorso dopo aver conosciuto Antonio a un corso di formazione e fin dal primo momento sarà che probabilmente siamo, ecco, di quello che è la stessa regione, sarà che effettivamente ci siamo praticamente attratti perché comunque mi ci ritrovo molto e lui, ho fin da subito deciso che avrei iniziato a seguirlo. Da lì a poco, purtroppo, Antonio non aveva ancora creato questa Accademia, quindi ricordo che durante la prima telefonata mi disse guarda, nel momento in cui dovessi aprire un'Accademia, a quel punto verrai ricontattato. Per mia fortuna, dopo circa un annetto, un annetto e mezzo, l'Accademia nacque e da quel momento immediatamente appunto decisi di entrare. Entrai e tante cose mi hanno colpito, ma al di fuori ovviamente di quella che è la qualità dei contenuti, ma più di tutte sono state la qualità, ovviamente, proprio di come hanno trattato noi corsisti e ovviamente anche quello che poi è stato il gruppo dei pari che si è creato all'interno di questo percorso, che è una cosa più unica che rara. Quindi, a distanza di un po' di tempo, oggi io applico queste competenze sia all'interno di quella che è la mia azienda che all'interno ovviamente del lavoro che già facevo e oggi la faccio ancora meglio con questi protocolli e non posso fare altro che ringraziare. Ovviamente, se anche tu sei un professionista, un imprenditore o ti piacerebbe apprendere queste competenze per la tua azienda, non posso che consigliarti questo percorso. Grazie a tutti.